Verona sarà la prima città in Italia a realizzare un'indagine di questo tipo. Si svolgerà a partire da domani con un tampone e analisi del sangue su un campione di oltre 2.060 persone preso tra i 235.000 residenti a Verona con oltre i 10 anni d'età. Saranno scelti con casualità e su base volontaria, ovvero senza costrizione, per rendere attendibile la statistica, per sapere con uno scarto dell'1% chi in città non ha contratto il covid o chi è asintomatico positivo. La protezione civile presterà servizio assicurandosi che le persone controllino la posta ordinaria dove sarà comunicata la richiesta di indagine. Si potrà stabilire il numero delle persone che non hanno mai avuto contatti con il virus e quindi potenzialmente in grado di ammalarsi, cioè quelli sani che non l'hanno mai preso e questa è una cosa che solo con questa indagine è verificabile ed è forse anche, non è la più importante, ma è molto importante perché ci dirà anche il numero delle persone che potenzialmente non l'hanno mai preso e che potenzialmente quindi potrebbero ancora ammalarsi. E poi il numero di cittadini portatori sani del virus, quindi anche asintomatici e quindi in grado di poter infettare. Allora, questo è l'epilogo, cioè è il traguardo a cui si tende ad arrivare. Come ho già detto la settimana scorsa, è un traguardo nelle mani della comunità scientifica perché ricordo che questa è una rilevazione che viene fatta dall'ospedale Sacro Cuore di Negrar, dall'azienda ospedaliera, US 9 Caligera, Università, quindi tutte le istituzioni, tutta la nostra comunità scientifica è coinvolta in questa operazione, in questo studio. Quindi questi risultati potranno essere uno strumento importante, ribadisco saremo i primi in Italia ad averli, uno strumento importante per la gestione nelle prossime settimane dell'emergenza sanitaria, che non è che finirà dalla sera alla mattina, ma speriamo con una progressiva diminuzione, ma continuerà nelle prossime settimane, e anche per fare le scelte migliori nelle abitudini, negli atteggiamenti delle persone, in virtù anche poi di una ripresa sociale ed economica.